L'Hange Bar Beethoven, caffetteria, brint, stuzzicheria, piatti caldi. Con la nostra nuova gestione stiamo riportando il Bar Beethoven agli antichi splendori, rendendolo il punto d'incontro per ogni età. Un'offerta sempre più ricca, sapremo coccolarti e prenderti per la vola nella pausa pranzo con piatti davvero gustosi. E ancora, happy hour, spritz party, con coinvolgente musica in sottofondo. Presto anche cornetti caldi nel cuore della notte. Puoi festeggiare da noi i tuoi eventi nell'elegante cornice nella sala interna o esterna dotate di ogni comfort. Prossimamente ogni giorno promozioni da cogliere al volo. Siamo aperti dal lunedì alla domenica. Cibo, relax e sano divertimento con la qualità, la professionalità, l'eleganza e la convenienza che ci contraddistinguono. Ti aspettiamo in via la Caeta 1 Taranto. Per noi ogni cliente è unico e speciale.